Dopo l'incontro avvenuto ieri nella sede della provincia Teramo tra i vertici dell'ente e dirigenti delle scuole superiori organizzato in particolare per trovare una soluzione condivisa per l'iti marino ospitato in quattro plessi a seguito della chiusura della scuola nel 2017 per problemi di vulnerabilità sismica il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto è intervenuto sulla vicenda per placare gli animi visto le dichiarazioni fatte durante la riunione dal presidente della provincia di Bonaventura a cui non è assolutamente piaciuta la partecipazione di alcuni consiglieri di maggioranza del comune alla manifestazione di protesta di docenti e studenti dell'Ipsia Ho letto di questo incontro perché non ero stato invitato, l'istituzione comune non era stata invitata la scelta di alcuni consiglieri provinciali in particolare di partecipare a quella iniziativa più che protesta un grido d'allarme da parte delle famiglie e degli insegnanti insomma è slegata da quella che è la posizione dell'istituzione, dell'ente comune che è sempre stata vicina alla provincia e torno a ribadire assolutamente la comprensione anche per la reazione così nervosa anche un po' scomposta per la verità del mio amico Diego, del presidente della provincia comprensibile perché è chiaro che si tratta di dover risolvere in pochi giorni prima della riapertura delle scuole, un problema che in realtà va avanti da tempo si porta dietro da tempo, ecco va ribadita la nostra vicinanza assolutamente in questo momento così difficile meno comprensibile, questo sì, ma insomma io ho avuto modo di confrontarmi con lui anche sulla questione dell'iniziativa delle famiglie e degli insegnanti e ci siamo già chiariti su questo meno comprensibile è il fatto di applicare una sorta di ritorsione mettendo diciamo così in mezzo la comunità scolastica ad esempio l'istituto Falcone e Borsellino ed altre comunità scolastiche questo dobbiamo assolutamente evitarlo tra istituzioni dobbiamo tornare e faccio anch'io un passo avanti in questa direzione alla massima collaborazione e vicinanza anche perché non è corretto intanto mettere in mezzo i ragazzi mettere in mezzo comunità scolastiche così alla vigilia della riapertura delle scuole adesso anche la provincia ha approvato finalmente l'ordinanza che riguarda le scuole della provincia quindi potrà recuperare il terreno guardiamo tutti in una stessa direzione stemperiamo, diciamo così, abbassiamo i toni usciamo fuori dalla logica delle polemiche e apprestiamoci alla riapertura delle scuole con grande serenità quindi massima collaborazione e vicinanza alla provincia in un momento difficile che sta vivendo perché si tratta di riaprire le scuole da qui a qualche giorno quindi nessuna polemica con il Presidente la massima collaborazione istituzionale grazie 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 grazie